Dopo Bibione si moltiplicano a macchia d'olio come in un contagio virale le spiagge italiane che hanno dichiarato guerra ai mozziconi di sigarette e dal fumo sotto l'ombrellone per salvaguardare oltre che l'ambiente anche la salute pubblica per i danni da fumo passivo considerando anche che i maggiori frequentatori delle spiagge sono in gran parte bambini e bambine e che spesso le ridottissime distanze tra un ombrellone e l'altro non consentono nonostante si sia l'aperto di sottrarsi spesso al fumo passivo a meno di una giornata ventosa ma a quel punto tanto vale non starsene a casa che il problema si pone e spesso. Pesaro nella nostra provincia è capofila di questa battaglia salutista anche se non ce la conferma ufficiale ma è questione di giorni se non di ore che l'assessore all'ambiente di fresca nomina Eidi Morotti su indicazioni di Ricci ha già belle pronta sulla sua scrivania e all'ordinanza manca solo la firma per vietare le bionde sulle spiagge rossiniane. E di Fanesi che cosa ne pensano di questa possibilità? Lo abbiamo chiesto a bagnanti, turisti e gestori della zona del Lido. Io sono fumatore quindi non lo so però per il rispetto degli altri probabilmente potrebbe essere anche una cosa buona però secondo me dovrebbero fare una zona fumatorica. Il problema delle cicche buttate un po' a terra così quello sta nella persona. Assolutamente giusto soprattutto per chi vuole godersi questa stupenda natura. Vogliono le spiagge smoke free senza mozziconi di sigarette e senza fumo cosa ne pensate? È giustissimo, è giustissimo sì sì. Anche sotto l'ombrellone nonostante siamo allo spazio aperto? Certo sì. E poi anche per i bambini piccoli? Certo, certo sì. Sì poi soprattutto non avere fumo vicino in parte l'ombrellone. E la trovo giusta perché poi anche quando fai il bagno ti ritrovi magari le cicche che viaggiano a pelo d'acqua e poi anche io che ogni tanto vado pesco le vongole le trovi anche in fondo e non è proprio bello. Non va bene. Caro Massimo Seri puoi tranquillamente applicarla che penso che ne saranno tutti contenti. Magari sarebbe ora di liberare un po' questi spazi pubblici dal fumo, dalle plastiche per rendere un po' più vivibile quest'ambiente. Sei contento? No, anche perché io ogni tanto vado a Pesaro ma adesso non ci vado più perché è assurdo non poter fumare in spiaggia. Però voglio dire siamo all'aperto e voglio dire. Per me è esagerato. Cioè un attimino magari il controllo se la gente butta le cicche di E però ci sono i posaceneri negli ombrelloni. Allora da gestore di un Lido cosa pensa di queste spiagge senza mozzicone di cigaretti, insomma smoke free? Eh io sono d'accordo, da ex fumatrice ovviamente non potrei dire altro che sì, sono d'accordo. Sicuramente noi siamo a favore in quanto ovviamente inquinano, sono un problema e noi che puliamo la spiaggia tutte le mattine ce le ritroviamo costantemente in spiaggia e quindi benvenga insomma questa iniziativa di cercare di limitare plastica, mozziconi eccetera. Dovrebbe essere applicata lungo tutta la riviera proprio come norma base e soprattutto anche per sensibilizzare insomma l'educazione delle persone che a volte viene a meno insomma. Grazie! Grazie!